Sono Roberto Caccamo e in assenza di qualcuno che mi faccia l'intervista mi devo fare delle domande e nello stesso tempo mi devo dare delle risposte. Allora, siamo alla vigilia di questo torneo e questo lo sappiamo tutti. Venerdì prossimo ci si vede tutti quanti, o almeno quelli che non sono andati in vacanza, sempre presso il San Nicola per la seconda sessione di allenamento. Ecco, io affronterò, innametevole, Nicola Titto, che sarebbe l'organizzatore, come questo lo sapete, l'organizzatore dell'evento, è una partita storica questa, perché con Nicola è da 30 anni che ci conosciamo, per cui, diciamo, diventa a questo punto una partita, diciamo, più che altro un amichevole per capire più gli schemi, le tattiche e anche per testare il manto del suo nuovo campo. Ecco, allora, oltre a questo che vi devo dire, signori, ci stiamo avvicinando alla data del 6 settembre, data in cui ci saranno i sorteggi, e qui ovviamente lo voglio dire tra l'inizio. Questi sorteggi, praticamente, non apranno né le teste di serie, né le fasce di merito, per cui sarà una vera lotteria, può uscire di tutto, insomma, può uscire un gruppo nel quale ci saranno giocatori, insomma, meno, diciamo, meno all'altezza, anche se sarebbero tutti all'altezza, non è questo, diciamo, meno blasonati, questo è il termine giusto, e ci saranno giocatori che ovviamente hanno un curriculum più corposo, perché, giustamente, ballano i trofei. Ecco, questo, tanto per concludere, vi rimando quindi appena a dire, nella seconda sessione, ci sarà un punto di vista a un nuovo arrivato per i campi di matrimonio, che è il masco di paese, e niente, buona giornata e buon risolvimento di ragazze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.